Ben trovati amici di Ribble, è tempo di una nuova recensione. Questa volta tocca ad Overwatch. Esatto, uno dei titoli multiplayer più attesi dell'anno. È un FPS sviluppato da Blizzard, fortemente incentrato sulle meccaniche di lavoro di squadra per arrivare alla vittoria. Riuscirà a soddisfare le nostre aspettative in termini di gameplay? Tu no! Per quei pochi di voi che ancora non lo sapessero, sappiate che Overwatch è un gioco esclusivamente basato sull'online. A parte la training room, non esistono modalità single player in questo gioco. Quindi l'intero contenuto è trovato all'interno del comparto multiplayer. Al che possono iniziare a venire dei dubbi perché, sinceramente, 12 mappe in 4 modalità, 3 mappe per modalità e 21 eroi in un roster, sì, carismatico, ben disegnato e simpatico. Però 21 non è tantissimo per un gioco online venduto a 40€ in versione base esclusivamente su PC oppure 60€ su console e anche su PC nella versione Origins. Bastano 21 personaggi e 12 mappe per rendere il gioco interessante? Deve essere fatto veramente bene in termini di gameplay e di stile grafico e intrattenimento per tenere incollate le persone per decine di ore con solamente 12 mappe. Ebbene Overwatch è proprio così, è interessante, è divertente, soprattutto in gruppo, possibilmente con amici e in modo tale da potersi coordinare perché nonostante i pochi personaggi e le poche mappe il gioco non si sente mai stagnante, non è mai noioso. Perché esiste la possibilità di cambiare eroe all'interno della mappa che è una feature altamente incoraggiata dagli sviluppatori perché il design stesso delle mappe con questa naturale evoluzione tra le modalità conquista porta a rendere più utile un eroe rispetto ad un altro a seconda della sezione di mappe in cui andremo a giocare nel determinato minuto della partita. Quindi magari è interessante iniziare con eroi agili stile tracer per infilarsi nelle retrovie e prendere il primo punto, una volta catturato questo punto e lo spawn è un pochino più protetto dai nemici diciamo, si può passare facilmente magari ad eroi tipo Reinhardt e Mercy, un tank e un curatore che sono ottimi per pushare una posizione in un corridoio. Mentre più avanti nella partita può essere utile, se manca pochissimo per catturare il punto, switchare di nuovo a un altro eroe che è più sneaky, è più facile da manovrare all'interno delle linee nemiche. Cioè all'interno di Overwatch la maleabilità del gameplay legata alla scelta di eroi diversi a seconda di situazioni diverse è il vero punto di forza del giovane. Quali sono però gli eroi impiegabili in Overwatch? Qual è il roster dei personaggi? Guardiamoli tutti con una piccola descrizione per capire le loro abilità andando ovviamente in ordine alfabetico. Bastion, un simpatico robot in grado di cularsi quando vuole, trasformarsi in torretta e perché no anche un carro armato. Diva, una ragazza che pilota un mech, ha armi che non devono ricaricarsi e nel caso lo desideri può anche autodistruggersi. Genji, un ninja che sparerà Shuriken, rimbalzerà i vostri colpi in faccia e perché no, userà la sua spada per tagliarvi a metà. Anzo, un arciere che grazie alla sua alta mobilità e alla sua finale seminerà non poco paura all'interno dei nemici. Jankrat, un eroe che fa dalle esplosioni il suo lavoro. Un lancio granate, c4, una finale a radiocomandata esplosiva, avete capito l'antifona. Lucio, un supporto che con la sua musica vi curerà, vi renderà più veloci e perché no, anche invulnerabili per un certo periodo di tempo. McCree, un pistolero che con la sua mobilità, la sua flashbang e il suo revolver ucciderà chiunque in uno contro uno nelle mani giuste. May, un supporto che con il ghiaccio è in grado di riflettere i colpi dei nemici, rendersi invulnerabile e bloccarle in posizione con la sua arma congelante. Mercy, una curatrice angelica che vi curerà, boosterà il danno e anche una volta morti vi riuscirà a tirarvi fuori dalle grinfie dell'inferno. Pharah, una donna con un jetpack e un lanciarazzi. Devo dire altro? Ah sì, vi farà una pioggia di giustizia in faccia quando tira al suo finale che ve la ricorderete per un po'. Reaper, un flanker che con i suoi due shotgun, la sua mobilità e la sua parziale invulnerabilità creeranno un poco scompiglio nelle retrovie nemiche. Reinhardt, il tank per eccellenza di Overwatch, con il suo scudo e le sue abilità soprattutto votate al muovere un fronte, vi porterà avanti nella partita verso la vittoria. Roadhog, l'eroe con più vita del gioco, simile a Pugee di Dota 2, con un gancio in grado di tirare i nemici verso i sei e con il suo shotgun li può distruggere in ben pochi colpi. Soldato 76, fuci e assalto, è in grado di correre, si può curare, è l'eroe più bilanciato del gioco. Simmetra, un eroe che in sostanza viene scelto solamente perché la sua finale non vi farà camminare per mezzo minuto per raggiungere il fronte. Torbjorn, il simpatico nanno svedese che con le sue torrette vi ucciderà a sorpresa senza che ve ne rendiate conto e quando entra in finale, uh, scappatevi perché quel martello fa anche male. Tracer, la flanca è per eccellenza, va nelle retrovie, non ucciderà particolarmente in fretta i nemici però creerà molti problemi e forzerà alcuni a tornare indietro dal fronte per cercare di ucciderle. Widowmaker, un eroe difensore che nelle mani giuste impedirà ai nemici di avanzare, per esempio in combinazione di un Bastion e di un Reinhard, così perché no, vinciamo facile. Winston, uno scimmio scienziato che salterà dossi i nemici col suo cannone elettrico, dall'agitata bassa però dal danno debole e costante, e nel caso entri in finale scappate perché vi tirerà di quelle botte da orbi che ve le ricorderemo. Zarya, altro tank del gioco, che usa gli scudi per assorbire danni e convertirli in un aumento di danno della sua arma principale, però il vero punto di forza è la sua finale, che avvicinere i nemici in un solo punto, costringendoli a rimanere fermi. Zeniatta, eroe potentissimo nelle mani giuste, è un supporto in grado di curare gli alleati, far fare più danni ai nemici e nella sua finale può curare tutti gli alleati in una zona diventando invulnerabile. In sostanza non vi troverete mai in un momento nel quale penserete di giocare ad un personaggio mentre in realtà ne state giocando un altro, perché sono davvero ben distinti, sia in termini di abilità che di gameplay. Però l'altra faccia della medaglia di questo fatto è che è difficile trovare un balance veramente perfetto di questa combinazione di eroi. Infatti, in molte mappe, essendo appunto strutturate per giocare sull'avanzamento di posizioni, eroi come Bastion, veramente difficili da sconfiggere, soprattutto se posizionati correttamente con un team che li supporta, oppure Junkrat che sfrutta abilità veramente leimerose di natura per eradicare nemici sia in assalto che in difesa, non resta che dire che il balance del gioco non è perfetto. È brutto giocare a Overwatch? Assolutamente no, però è anche ovvio che in un gioco basato fortemente sul multiplayer online ci si aspettava al lancio, soprattutto dopo quasi sei mesi, se non di più addirittura di beta, un balance perfetto. Tecnicamente parlando invece Overwatch è decisamente ottimo, non c'è assolutamente niente di cui lamentarsi, specialmente perché è uno di quei pochi giochi online che ci sono sia su PC e console e garantiscono su tutte le piattaforme un livello grafico simile a 1080p a 60 frame al secondo. Nel caso delle console la risoluzione è dinamica, però i 60 frame al secondo che sono il punto chiave fondamentale di ogni gioco multiplayer online sono raggiunti e sono mantenuti nel corso dell'esperienza, perciò ottimo lavoro Blizzard da questo punto di vista. I colori sono vivaci, lo stile che permea il gioco è davvero unico e immediatamente riconoscibile, i personaggi sono ben disegnati, le voci sono davvero azzeccate per rappresentare proprio il comportamento e il carattere del personaggio fin da subito, senza neanche averci mai giocato o sapere niente della backstory. Che dire, le armi funzionano bene, hanno un buon feel, le musiche sono buone, niente di spettacolare, però assolutamente nulla che possa annoiarci nel corso dell'esperienza, quindi passa quasi completamente a pieni voti dal lato tecnico Overwatch, niente male. Che dire quindi di Overwatch, è davvero un bel gioco, non ci sono dubbi al riguardo, ci sono dei problemi di balance che danno un pochino fastidio all'esperienza globale, non abbastanza da rovinare però l'interesse nel giocare continuamente una partita dopo l'altra, ancora e ancora, come se fossero delle ciliegie. Se desiderate però scoprire ulteriori informazioni riguardo ai problemi di balance che minano l'esperienza di gioco, impedendo al titolo di essere considerato un gioco propriamente competitivo, leggete la recensione testuale nel link che trovate qui sotto nella descrizione del video e spero di riuscire a soddisfare la vostra sete di sapere. Che altro a dire? Se non le solite raccomandazioni di Rito, mettete un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, seguiteci sul canale di videogiochi di Ritball.com e... beh, lascio la parola a Tracer. Grazie. Grazie. always use more heroes